Bentornati al consueto appuntamento con TG Tech, vediamo subito insieme quali sono le notizie più importanti della settimana. BlackBerry 10, ecco la svolta di BlackBerry. Office 365 Home Premium, la produttività si sposta sul cloud. Nuovi smartphone in arrivo per Nokia e HTC al Mobile World Congress. Novità per i possessori di mirrorless dal CP Plus di Yokohama. Razzle sempre sulla cresta dell'onda. Una delle novità più importanti della settimana è sicuramente il lancio di BlackBerry 10, una pietra a miliare tale che l'azienda canadese ha deciso di cambiare nome. Non si chiamerà più RIM, ma BlackBerry. Il nuovo sistema operativo punta sull'interfaccia Flow per guadagnare consensi nel mondo degli smartphone touchscreen e non ripete l'errore fatto con Playbook, presentandosi questa volta già con 70.000 app già presenti nel catalogo. Nuova anche l'immagine grazie alla nomina di Alicia Keys come direttore creativo. Nuova musica quindi per BlackBerry. Trovate comunque tutti i dettagli sul nuovo sistema operativo e sui nuovi terminali Z10 e Q10 nell'approfondimento pubblicato sulle pagine di Hardware Upgrade. Novità per Office 365, ce ne parla Alessandro. Il pacchetto Office è stato ufficialmente rinnovato da Microsoft con la presentazione di alcune novità interessanti. Office Home Student 2013, Office Home & Business 2013 e Office Professional 2013 sono versioni aggiornate delle suite che tutti conosciamo, con alcune migliorie apportate ai singoli applicativi. Ben diversa però dal passato, la suite Office Office 365 è un premium, poiché l'utilizzo degli applicativi avviene attraverso il cloud. Installazione non locale quindi, non ci sarà da installare nulla sul proprio PC. L'accesso agli applicativi è garantito per un massimo di 5 dispositivi che possono essere PC o tablet, sia del mondo Windows che di quello Apple. A corredo della suite troviamo anche 20 GB di spazi su SkyDrive che vanno ad aggiungersi agli eventuali GB già a disposizione degli utenti. Oltre a 60 minuti mensili di chiamate effettuate con Skype. Il prezzo è di 99 euro all'anno che, considerato quanto viene offerto, non è per niente male. C'è da dire che molti fra le mura domestiche continueranno ad utilizzare le versioni precedenti. Da una parte perché non si avverte particolare esigenza di qualcosa di diverso, dall'altra perché alcuni trovano più conveniente procedere ai propri acquisti direttamente su Torre ***. Si può dire Torre *** qua? Comprendi? Davide ci parla invece dei nuovi smartphone di Nokia HTC previsti per il Mobile World Congress. Passato il CS di Las Vegas, anche quest'anno ci apprestiamo ad accogliere le molte novità che sicuramente verranno a galla nel corso del prossimo Mobile World Congress e delle quali abbiamo già alcuni dettagli. In particolare, stando agli inviti giunti nel corso delle ultime ore, pare che Nokia abbia qualcosa di interessante da farci vedere il prossimo 25 febbraio. Nuovi lumi nei padiglioni del Mobile World Congress? Anticipando di qualche giorno l'inizio della fiera catalana, sembra invece ormai confermata la presentazione del nuovo HTC M7 che avverrà nel corso di un apposito evento in quel di New York. HTC M7 sarà probabilmente il nuovo top di gamma dell'azienda taiwanese per il 2013. Ma non finisce qui. Anche ZTE, infatti, nonostante gli annunci del CS, sembra avere qualcosa in serbo per noi. Un nuovo phablet da 5,7 pollici potrebbe essere il prodotto presentato nel corso del prossimo Mobile World Congress. Non ci resta quindi che attendere il prossimo 25 febbraio. Il CP Plus di Yokohama non è stata, come molti si attendevano invece, vetrina per nuove reflex, ma un'infornata di compatte. Notizia interessante invece per i possessori di mirrorless con interessanti alternative sui fronti delle ottiche e anche dei produttori di terze parti. In ambito micro 4 terzi, Olympus ha messo sul piatto la nuova versione del suo 75-300 mm, un'ottica con una focale equivalente fino a 600 mm. Tamron ha annunciato il suo zoom tuttofare 14-150 mm con focale equivalente 28-300 mm, mentre Sigma si è dedicata ai fissi, in questo caso anche per Sony Nex, con il 60 mm f2.8 e le nuove versioni del 30 mm e il 19 mm f2.8. A questo punto del TG solitamente c'è l'angolo dei videogiochi, ma questa volta invece abbiamo un comunicato dalla redazione. La redazione di TG Tech ha deciso di bannare a tempo indeterminato Rosario Grasso dal programma per aver diffuso un video nel quale istigava e insegnava gli utenti a barare nel gioco razzol. La redazione si riserva inoltre di intraprendere altre azioni disciplinari nei confronti di Grasso. Termina qui anche questa edizione di TG Tech, vi rimandiamo al prossimo appuntamento, con il telegiornale e il network, di Hardware Upgrade. Una delle dovità più importante, una pietra a miliare e tale da Nokia e HTC sono sempre sulla cresta del Faso. Finito.